Quattro giorni di festa per celebrare la storia, la cultura e la gente friulana. Un programma con una serie di appuntamenti ad ingresso libero a cavallo tra teatro, musica, letture, racconti, visite. E quanto propone la Fiesta de Patria del Friul, dal 3 al 6 aprile a Cavasso Nuovo, Fanna e Meduno. Organizzata dall'Istitut Ladin Furlan, insieme alle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ai tre comuni coinvolti e a numerosi sodalizi e associazioni, propone un programma assai variegato. Gli spettacoli sono teatrali, di tipo artistico, perché Novella Cantarutti è uno dei personaggi in cui noi andremo a ricordare nel suo comune natale. E poi abbiamo spettacoli per i bambini, nelle fattorie didattiche. E poi abbiamo presentazione dell'abecedario in Friulano, anche qui una grossa novità per insegnare ai bambini. La qualità è alta perché l'ultima sera musica a manette, musica in Friulano per i giovani, che abbiamo sperimentato già in altre occasioni e qui vogliamo riproporlo anche nella provincia di Pordenone. La conferenza stampa, che si è svolta nella sede della provincia di Pordenone, ha fornito lo spunto per ragionare sull'autonomia e identità locale. Provincia di Pordenone, assessorato alla cultura e naturalmente presidenza, amministrazione della provincia di Pordenone, che sostiene assolutamente in prima fila la festa della patria del Friuli. Fiesta della patria del Friuli, che colla con un riferimento particolare dal nostro paese, ovvero la chiusura della provincia di Pordenone. Provincia di Pordenone che è riferimento di un territorio. Siamo in un momento molto particolare perché con la chiusura delle province, cominciando proprio da Pordenone, questa festa fatta in provincia di Pordenone, ha significato molto importante. difendere l'identità dei territori di area vasta perché guai se vengono a mancare questi territori perché viene a mancare anche l'identità. Un comune non può fare l'identità, ci vuole un territorio molto più vasto che tra l'altro è rappresentato dalle province. Ecco perché io sono molto preoccupato da questa azione di chiudere le province, cominciando da Pordenone, perché viene meno l'identità del Friuli, viene meno quello che è l'identità di un'area vasta che è rappresentata dal Friuli, dalle tre province, Udine, Gorizia e Pordenone, che rischiano di essere stritolate nei confronti poi di una Trieste che resterà e anche nei confronti degli altri territori dello Stato italiano. Ecco perché è importante mantenere le province, perché attraverso le province passa l'identità del Friuli. Grazie. 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 Grazie.